Che dolce ti offre una doppia ricetta ciurro. Una con una tazza di ciurro croccante e dorata riempita con cioccolato liquido e l'altra con bastoncini di ciurro carichi di s'mores. Ti serviranno solo burro, zucchero, acqua, latte, farina, uova, marshmallow e sfoglie di cioccolato. Iniziamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!